secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento riguarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie non durerà moltissimo come si sono tre mesi 77 giorni circa meno di tre mesi e ci sarà la console capo ci sarà la cash console cap e questa è la playstation cap invece molto molto figo sto seriamente pensando di comprarmi una playstation rg king non faccia queste cose carder king vuole completare la barra nuova oggi direttamente c'è già acceso intanto una lucina che già acceso una lucina e c'è nessuno che scende con l'asciugamano in testa che immagini pietrose siamo in pubblica e vi ricordo ragazzi mi ricordo sempre che siamo in pubblica questo aveva in mano le amp le ha tirate sul mio veicolo per fermarlo e mi ha pompato pubblica tutto bene tutto bene la pami mi ha scritto su whatsapp dentro in tre li sto cercando ma non so dove siano sei seri no raga dai porco diaz raga raga dai porco diaz dai porco diaz ma ti sembra normale ma ti sembra normale 30 secondi e torniamo sui leaks saluto anche riccardo sasi tommaso martino nicolò leoncini leonardo vandelli marco pizzini marco rossi ale alex schiavi giovanni didi andrea ruo federico marrano dai ragazzoni grazie di cuoro e andiamo intanto dopo torno a salutarvi sto seguendo sto guardando ma per il momento non ci sono news io credo che sia veramente una questione di minuto abbiamo visto poseidone abbiamo visto corra vi confermo che la nuova lobby è questa ragazzi questa qui sarà la nuova lobby molto carina molto molto carina diamogli un pochettino più di di contrasto ecco guarda che bella che è vista così anche questo tipo di live diverse da quelle di fortnite no 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 io faccio anche altri lavori killer nick e magari facesse solo lo streamer il giovedì pomeriggio devo andare giù al safari vicino a peschiera del garda per dipingere le strisce nere sui cavalli bianchi e fargli credere che quelli stronzi hanno le zebre vai tranquillo radar ci penso io e insomma avevo una ex che mi diceva cazzo anche tu hai il martello di fuoco io e nina e andiamo a vedere se c'è qualcos'altro non c'è un granché questo è un martello di fuoco di ernesto raga purtroppo non carica i post che vorrei caricare su meta non so perché le ali sono la mobility quindi parca parca pezzo di merda pezzo di merda altissimi per la nuova season voi siete pronti per la nuova season si prospetta qualcosa di davvero figo raga scendiamo dalle rocce così nice 320 metri andiamo pulita così raga no a me piacciono le rank in questo modo ma un po' eccessiva come cosa raga mi sembra leggermente eccessiva raga meno di 10 meno di 10 con muro scala non sarai morto certo anche con tre pali avrei scopato di più però questo è nel senso signori io vi droppo sempre il messaggio con i prossimi concerti che farò se avete piacere a venire a divertirvi in una delle mie serate i 4 medaglioni che sono presenti nella nuova season di fortnite 4 gli dei 4 i medaglioni raga ovviamente mi immagino che ogni medaglione abbia sempre una caratteristica unica che darà al giocatore penso ripristino chiaramente dello scudo io ho una posizione veramente interessante e distanza l'altro conferisce un effetto di siphon curativo all'eliminazione dei nemici l'altro ti fa correre più veloce e saltare più in alto e l'ultimo ti fa ottenere delle cariche di dash che sarebbero le cariche dell'arma di ade per rapidi scatti di mobilità quindi abbiamo un oggetto che si può utilizzare come mobility raga molto figo tra l'altro a te potrebbe arrivarti un blitz della polizia senza che tu sai perché questa è l'intelligenza artificiale immagazzinata nell'npc che si sposta per tutta la mappa e che quindi fa anche questo lo sapevate? non si cancella mai mai ed è questa una follia ogni npc ogni npc con i quali in solo signori io me la rischio in solo l'ultima è bella ah quella dell'angelo nero pericoloso in solo raga finisce la stricca così però almeno adesso possiamo fare tutte le cose raga beh cosa cazzo è bello vedere 80 serie di vittorie nel senso not era quasi scontato io io spesso per sorpresa certo 7 mesi buongiorno Xionder le può andare bene torniamo su Brawl oh grazie Jack dopo lo leggo perfetta molto bene andiamo andiamo sto scherzando spero sto scherzando spero salutiamo Andrea VRZ Guan Luca Omar 420 Sassà Trei Filippo Grassi Mirko Zombax Jacopo Perilli Gabriele Bonetti Alessio Geri Ceso Alessandro Jason Gica Simo Liam Noto Jacopo Checco Sergio Rossi e anche Francesco magari ce ne sono altri Lorenzo Rossi Andrea Ceraldini Ale Amo Gabriele Piatri Ciao Grazie a tutti.